bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi giustamente mi chiederete ma xyuder che cavolo fai carichi i video a quest'ora si ragazzi perché qua nessuno ne ha parlato neanche pubblicamente sono uscite le sfide ma ci sono tre sfide da fare per ottenere l'adesivo dell'agente bananita in game quindi ci spostiamo molto rapidamente nella lobby di gioco come vedete la prima cosa da fare ragazzi è andare in alto a sinistra dove ci sono tutti gli agenti entrare nella parte di brutus e come vedete guardate ci sono delle valvole in questo momento 1 ci clicchiamo sopra 2 ci clicchiamo sopra 3 ci clicchiamo sopra e 4 e come vedete ragazzi le valvole hanno fatto qualcosa usciamo rimanendo sempre però nella sezione degli agenti andiamo da miascolo e come vedete anzi non lo state vedendo ma esattamente dietro la mia webcam in alto a sinistra c'è un piccolissimo gatto giocattolo potete tranquillamente andarci sopra con il mouse diventerà con il bordo bianco lo premete lo continuate a premere una volta che l'avete premuto per tre volte lo farete cadere per terra e da dietro si vede una banana che fa una roba un po particolare da qua ragazzi andate direttamente nella schermata di mida bellissimo intanto la intro veramente un qualcosa di meraviglioso lo abbiamo già visto nei nostri video precedenti tutto il discorso di mida che tocca trasforma il gli elmi in oro tutti gli elmi delle skin che conosciamo una volta che avete terminato di vedere il trailer di mida sulla destra vedete il grammofono premete il grammofono aspettate che si gira due volte il grammofono funziona si apre una finestra e c'è sempre agente bananita e come vedete otterrete il distintivo banana beh ragazzi io vi ringrazio per avere guardato questo video spero vi possa essere piaciuto mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo domani mattina alle 8 in live su twitch ciao 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 ciao